Se ci fa un fila, è un ragione politico, sono antropologico, e a fare un fatto un'insegnante di scienza degli alimenti. Il filo, la poverenza, quello che avete a capare, è amore e gratitudine. L'esperienza è un momento in cui potete... Sì, bene, quindi chiudiamo questa giornata. C'è che potessi anche un po' più breve, per poter ottimizzare un po' la vita. Io ho dedicato una parte della mia vita ad approfondire quella che è l'argomento dell'educazione vicinopera, fino ad arrivare a un nuovo tipo di approccio educativo che pone attenzione alla relazione uomo-animale. Aiuta ad avere una visione non tanto più non fizzata dell'animale stesso, quindi non risentibuiscono comportamenti difficili, umani, non so se mi capita, e mi ha fatto i rispetti, ecco, gli animali conosceranno i grandi insegnamenti sui grandi maestri, perché loro non hanno la... non premedita un po' che faccia il rispetto. Insomma, questa è una prerogativa dell'uomo. E quindi ci insegna a rispettare quello che è l'ettogramma, cioè conoscere il comportamento del soggetto attraverso quelle che sono le sue vocazioni, le attitudini e le motivazioni. Quindi viene data attenzione al soggetto che diventa in parte integrante la famiglia, dell'insieme famiglia. Approfondire questi temi mi ha permesso di iniziare a spostare quello che è il punto di osservazione rispetto a quanto ho fatto magari con gli approcci studiati, insieme a conosciuti, per esempio di questa. Quindi abbiamo permesso di muovere i primi passi nel quotidiano, nel quotidiano, nel quotidiano di ogni giorno una visione più eco-centrica e meno eco-centrica. Sono un po' giocattivo in parole, però inizia da ricordare, quindi si muove una visione insieme. Cioè ciò che ci circonda non è un oggetto a mia, a nostra disposizione. riunire ciò che ci circonda in tutto uno. Questo sia sempre per quanto riguarda il mondo animale e vegetale, ma anche per quanto riguarda la relazione, in primis verso me stessa, dunque anche verso il prossimo. Ecco, quando ho ricevuto la proposta di parlare d'amore, ho subito ammettito da un lato il senso di responsabilità e dall'altro di forte gratitudine. Responsabilità perché parlare d'amore implica averlo sperimentato, averne fatto in qualche modo un'esperienza. continuire con tutti questi individui modificati, soltivi, implica provare a capire il cuore.